Berlusconi nemmeno da morto lo lasciano tranquillo. Ti ricordo di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Prima di iniziare il video, vorrei condividere con te una notizia recente. Il 12 giugno scorso, Silvio Berlusconi ci ha lasciato. Dopo essere stato ricoverato, per un lungo periodo all'ospedale San Raffaele, a causa di una grave malattia, la leucemia mielomonocitica cronica, l'ex presidente del Consiglio italiano ha purtroppo perso la sua battaglia. I funerali si sono tenuti il mercoledì 14 giugno presso il Duomo di Milano e la sua salma verrà cremata in Piemonte. Un dato interessante è che nel parco della sua villa a San Martino ad Arcore, Berlusconi aveva fatto costruire un grande mausoleo per ospitare i suoi cari defunti. Tuttavia, fino ad oggi, la tomba monumentale rimane vuota. L'ex premier ha commissionato la costruzione di questa struttura nel 1993 e dal suo centro si erge un sarcofago bianco appositamente realizzato per lui. All'esterno della scultura possiamo notare un'altra opera d'arte astratta, in marmo bianco che rappresenta le Alpi Apuane. Al momento, nessun corpo riposa all'interno del mausoleo. Infatti, sia il padre Luigi, scomparso nel 1989, che la madre Rosa, deceduta nel 2008, sono sepolti nel cimitero monumentale di Milano, uno accanto all'altro. La tomba monumentale di Berlusconi è ancora vuota perché la legge attuale non consente l'utilizzo di questa struttura e, finora, il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, non ha ricevuto richieste in merito. Curiosamente, Emilio Fede aveva espresso il desiderio di far parte dei pochi ammessi al mausoleo insieme a Silvio. L'ex premier avrebbe anche voluto fedele con Falonieri e Marcello Dell'Utri al suo fianco. Tuttavia, qualcuno ha rifiutato l'invito macabro del leader politico. A dire di no a questa proposta è stato Indro Montanelli, all'epoca direttore del giornale. Montanelli ha rifiutato l'offerta dell'ex presidente del Consiglio con queste esatte parole. Domine non sundinius, che tradotto dal latino significa signore, non sono degno. Iscriviti al canale per continuare a seguire le news di Gossip.